Dopo due anni e nove mesi si tornerà a nascere a Pesaro. Questo perlomeno è quanto annunciato dalla Giunta regionale agli inizi di ottobre, periodo in cui è stata cerchiata in rosso la data di lunedì 5 dicembre per la riapertura del punto nascita all'ospedale San Salvatore con l'annesso di partimento materno-infantile per quel che riguarda i servizi di ostetricia e ginecologia. Reparti chiusi a marzo 2020 per la trasformazione del San Salvatore in presidio Covid e ora pronti alla riapertura dopo la ristrutturazione della palazzina F. L'avvicinarsi però della data di riapertura è stata accompagnata dai dubbi verso questo ritorno al passato. Soprattutto a Fano, unico punto nascita di Marche Nord da marzo 2020 in poi. Fano in cui il sindaco Sera ha bollato lo sdoppiamento come scelta inopportuna nei tempi e il primario di ginecologia Cicoli ha malcelato le difficoltà di copertura dei turni su due presidi col numero di pediatri attuali. Carenza di personale sulla quale la regione sta cercando di rimediare con medici a gettone reclutati dalla cooperativa Nova Medica di Bologna che si è giudicata apposito bando. Cooperativa che però già copriva l'ospedale di Urbino e che ora si è impegnata a riperire medici ulteriori per consentire la riapertura del terzo punto nascita della provincia. Un tema sul quale si stanno battendo anche i consiglieri comunali pesaresi di centrodestra Michele Redaelli e Giulia Marchionni secondo i quali la riapertura del dipartimento non è più rinunciabile. Per ragionare su queste tematiche occorre partire dai numeri, dalle esigenze concrete dei territori e questo è il metodo che porta avanti questa giunta. Lasciamoci pure alle spalle i criticoni che ogni volta prendono la parola soltanto per contrastare quello che fa la giunta regionale e lasciamoci anche da parte quelli che sono i campanilismi. Quello che chiediamo non è in sottrazione a nessun altro. Noi chiediamo insieme alla presenza del polo a Fano e a quello d'Urbino la riapertura di un punto nascite a Pesaro che possa essere adeguato per i bisogni del nostro territorio. Ancora più dell'assenza del punto nascite è stata l'assenza di un servizio di emergenza infantile a mettere in ulteriore difficoltà le famiglie pesaresi. Il tema in questo caso è anche e soprattutto l'emergenza. Non possiamo pensare che la città di Pesaro rimanga priva di ginecologi e di pediatri. Quando tutte le famiglie si trovano in difficoltà pensare di dover correre in urgenza verso l'ospedale di Fano diventa comunque una criticità e questo vale tanto per i bambini quanto per le mamme che magari si trovano in difficoltà da un punto di vista ostetrico-ginecologico. Le realtà che ascoltiamo, le testimonianze che ascoltiamo sono tante. Abbiamo più volte detto che il campanellismo non ci appartiene e questo atteggiamento qui piuttosto che là non fa bene a nessuno. La verità è che l'attuale piano sociosanitario prevede tre punti nascita, tre reparti materno-infantile. Se proprio vogliamo lavorare bene e lavorare bene per il futuro dobbiamo pensare che eventualmente nel nuovo ospedale di Pesaro possa esserci un reparto materno-infantile con tutte le specialità all'avanguardia in termini emergenziali, quindi tutto quello che potrebbe servire alle mamme e ai nascituri nel momento del bisogno. Ecco, su questo tema dobbiamo lavorare e lavoreremo insieme agli assessori e ai consiglieri regionali competenti per riuscire a garantire a Pesaro la migliore struttura possibile.